Operava nel centro storico di Fanno la banda sgominata dagli agenti del commisariato di Fanno che dopo aver indagato per alcuni mesi hanno arrestato un diciottenne di origini meridionali per possesso di stupefacente destinato allo spaccio e denunciato tre minorenni per furto e un quarantenne romeno per ricettazione. Due giovani di 17 e 18 anni, che erano alcune delle figure di rilievo del gruppo, agivano in modo separato. Il primo nel campo dello spaccio mentre il secondo in quello dei furti. I punti prediletti dal pusher erano la zona di Piazza Miani, l'ex chiostro delle Benedettine e alcune scuole medie. Dopo le segnalazioni ricevute i poliziotti hanno iniziato a seguire i movimenti del giovane fino a fermarlo e trovandolo in possesso di 5 grammi di hashish e 60 grammi di cristalli di anfetamina, oltre che di un cellulare rubato. Si stima che i cristalli una volta lavorati avrebbero consentito di ricavare circa 600 dosi di pericolosissima droga sintetica destinata ad essere venduta a giovani studenti fanesi. Il 17enne invece, senza famiglia e in continua fuga dai centri di accoglienza per i minori, è ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti tra il centro storico e il Lido di Fano. In particolare i colpi erano stati consumati ai danni di passanti o all'interno di negozi durante gli orari di chiusura. Dalle investigazioni è emerso che il minorenne metteva segno furti su commissioni di un romeno di 40 anni residente a Fano e già noto alle forze di polizia. Era quest'ultimo a segnalare i prodotti da sottrarre e poi da rivendere o sul mercato nero e da esportare in patria. Il 17enne inoltre agito anche in collaborazione di altri tre minorenni del posto di età compresa fra i 13 e i 14 anni, ai quali in cambio offriva droga o denaro contante, circa 50 euro a testa. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno trovato una macchina da caffè professionale, asportata da un chiosco dell'Arzilla in via del Moletto, due biciclette, tre telefoni cellulari e alcune carte di credito. La rifurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Un'operazione che è nata dall'unione di accertamenti che stavamo svolgendo a seguito di furti avvenuti nel centro storico di Fano e da segnalazioni molto importanti, ben fatte da parte dei dirigenti degli istituti scolastici delle scuole medie del centro storico sempre Fanese. Queste indicazioni ci hanno portato proprio a scoprire un vero e proprio attività di reclutamento da parte di giovani, comunque già esperti nel delinquere, un reclutamento di giovanissimi, anche di frequentatori delle scuole medie addirittura, che spingevano poi a compiere alcuni furti o a corollare, poi c'era tutta anche un'attività di spaccio di droga che purtroppo convolgeva gli stessi giovani, giovanissimi, da un'età di 13 fino a 16 anni. Considerato anche la pericolosità della sostanza stupefacente che abbiamo sequestrato c'è cristalli di anfetamine, è considerata oltretutto la giovanissima età dei consumatori e sicuramente si tratta di un'operazione veramente molto importante. A finire nei guai sono stati anche 4 quindicenni, due di questi sono stati segnalati alla prefettura di Pesaro come assuntori di droga perché sono stati trovati in possesso di spinelli, altri due invece sono stati sorprese a gareggiare con i loro motorini di fronte all'istituto comprensivo Matteo Nuti senza indossare i caschi. Oltre alle multe elevate per infrazione al codice della strada gli sono state ritirate le carte di circolazione dei veicoli.